Ciao Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Oggi impareremo come cambiare l'MTU Allora come state vedendo dovete andare in impostazioni Dovete configurare la vostra rete Usa cavo LAN se avete il cavo LAN O WIFI se siete WIFI Allora dovete impostare personalizzata ragazzi Una volta che avete impostato personalizzata Andate su tutte le varie impostazioni che avete E schiacciate ok Ovviamente avanti Fino ad arrivare all'MTU ragazzi Qui dovete mettere manuale In questo riguadro Ci cliccate sopra Allora come vedete io ho 750 Però posso cambiarlo a mio piacere Posso metterlo 800, posso metterlo 1500 Generalmente quando voi entrate è così E' 1500 ragazzi Lo troverete MTU 1500 Poi se voi volete cambiarlo per fare missioni del CEO Missioni dell'MC O anche questo glitch che ho portato adesso sul canale Dovete metterlo 750 o 800 In maniera tale da potervi trovare in sessione solitaria E poter fare tutto il cazzo che volete Una volta fatto tutto Date ok Invio Fate tutti i procedimenti che ho fatto Fate la verifica della connessione E il gioco è fatto ragazzi Per riportare il vostro MTU Normalmente Basta che Fate la verifica della connessione Rimettete in tipica Invece che personalizzata E anche lì il gioco è fatto Ritornerà alla vostra connessione normale Come sempre E avrete tutti i vostri settaggi Detto questo Il video finisce qui Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti